ecco qua il presidente della golfo dei poeti organizzatore di questo trail del golfo dei poeti allora presidente quanti siamo? penso sui 4.50, 4.70, speriamo che vada bene per tutto quello che vedrete, il paesaggio, tutto non so più cosa dire in bocca? ecco arrivato il Fred a un minuto dalla partenza ancora al pettorale grande Marco già vestito da corsa vedo la tenuta un po' invernale però ci è lasciato spaventare dalle nuvole presenti oggi sul cielo ancora addormentato perché ieri sera a cena abbiamo fatto amicizie grazie al passione di Fred amicizie gay sicuramente grazie a tutti grazie a tutti la disputa di vedo spaventare mi raccomando 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 6 7 6 6 5 6 6 6 7 8 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 19 18 19 19 19 20 20 20 20 18 19 19 19 19 20 19 20 20 21 22 22 22 23 22 23 23 23 28 23 Freda finica da passione Pumk, punk rocker Pumk, punk rocker Oh What is she, Joey? She is Punk rocker She is Punk rocker She is Punk rocker now She is Punk rocker Punk rocker now I 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 Dove siamo qua? Questi sono i trail Tutta un'altra cosa delle corse su bitume I trail si corrono così Poi a un certo punto si siede qua si gode il panorama senza problemi di cronometro quanto stiamo andando boh che cacchio me ne frega Eh Ciao Qui siamo al 26esimo Acqua normale Dove 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 Si Due Sì 3,70 Una metà 5 Osvaldo Lanatta Osvaldo Lanatta 30,60 Sì Wow Danni Ce l'ho dietro Se le apri Basta che tassi. Dai, dai! Abba vedi qualcosa! Dai, via! Succhi! Dai! Succhi! 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 Succhi!